Dato che EcoFlow mi ha mandato il loro prodotto fighissimo che si chiama Glacier e a me piace ricevere cose bellissime che posso toccare e utilizzare, questo video sarà intervallato da brevissimi fotogrammi del frigorifero. Alcuni anni fa ero in una sorta di comunità religiosa dove usavano soltanto le tecnologie che erano in grado di capire e quindi niente cellulari, niente computer, ma avevano i frigoriferi. Ho chiesto mentre ero a cena come funziona un frigorifero e ovviamente non lo sapevano ma il frigorifero non si discute. Se andate a casa di qualcuno e ha una friggitrice ad aria ne parlate, si ha il forno è normale ma se non ce l'ha vabbè, però non vi aspettate che non abbia il frigo e questo nonostante il frigorifero consumi uno scatafascio, cioè neanche i consumi vi mettono in dubbio che il frigorifero sia una buona idea, non è che lo staccate per risparmiare come fate quando spegnete la luce. Per darvi un'idea questi sono i miei consumi e il frigorifero è tipo dieci volte qualsiasi altra cosa e comunque non stacco il frigorifero, non è che vivo senza gelati, senza yogurt, non esiste, non esiste. Ora ovviamente ci sono dei casi limiti, andate dal vostro amico che fa il ricercatore a Caponord, magari il frigorifero non ce l'ha perché può uscire fuori e prendere i surgelati, magari scoprirete che c'era lo stesso perché uscire a meno 30 gradi per prendere uno yogurt non è proprio la cosa più comoda del mondo. Insomma, il frigorifero non si discute e dopo questo video non guarderete mai più il frigo allo stesso modo perché il frigo è un concentrato di tecnologia, scienza e ovviamente poteri forti. Ma prima di tutto, sigla! Ovviamente frigorifero è un concetto ampio, dal frigorifero portatile che mi ha mandato Ecoflor ricordandomi come funziona un frigorifero perché sappiatelo, una volta lasciata la comunità religiosa e tornato alla civiltà con internet, come funziona un frigorifero? Me lo sono studiato e quindi passiamo da questi antichi frigoriferi dove avevi bisogno di un tizio che ti portava la neve o il ghiaccio a questo mastodonte moderno che se avessi molti molti soldi probabilmente mi comprerei ma forse non è neanche il caso che esista. Anzi, se avete dubbi sul fatto che l'esistenza di un frigorifero di queste dimensioni sia necessaria per l'umanità vi invito a rileggere la decrescita felice di Latouche. Ovviamente il frigorifero in teoria potrebbe anche permetterci di fare cose assurde tipo questo frigo pieno di birra anche se poi alla fine finiamo sempre a fare un quadrato che la grande innovazione è la telecamera all'interno e l'oblò ma vabbè perché siamo fatti così. Tra l'altro perché la lavastoviglia non ha la telecamera? Adesso non voglio partire, è un video sui frigoriferi ma perché la lavastoviglia non ha la telecamera che io non so mai quando ha finito, se ha lavato, se senti un rumore, magari è caduto qualcosa, vabbè frigoriferi. Bene, non sarò perfettamente a fuoco perché voglio tenere a fuoco lui ed è un frigo della EcoFlow che si chiama Glacier che già conoscevo prima che mi contattassero per dirmi te ne mandiamo uno gratis. Quindi non so se ti mandano un frigo ma non ti pagano. È una sponsorizzazione pagata? Secondo me no perché alla fine posso dire quello che mi pare ma già me lo volevo comprare è stupendo e mi risolve una marea di problemi ma ci faccio un video apposta che non so se siano i vostri problemi ma secondo me è una di quelle cose che ti migliora un pelino la vita. Non è la cosa risolutiva, non è come quando vi comprate una barca che dici adesso posso andare in barca però lo usate una volta al mese. Questo secondo me è quell'oggetto che risolve un piccolo problema più o meno quotidiano. È un frigo che qua si può dividere in due scomparti con questa meraviglia che la prima volta mi ha fregato perché devi girarlo per farlo stare nella tacca. Quindi fatto così puoi decidere due temperature diverse, fatto così lo rimetti a posto e te lo tieni a temperatura singola che è l'ultima cosa che ho fatto perché l'ultima cosa che ho fatto è stato dare una mano a mia mamma a sbrinare il frigo. È un frigorifero a batteria e siccome EcoFlow tendentemente fa batterie, la batteria è perfetta, ti permette anche di ricaricare un cellulare. Secondo me potevano anche mettere tre porte visto che c'erano però vabbè. Però se ti ricaricasse due cellulari potete sempre comprare due frigoriferi e vi ricaricate due cellulari. Ma torniamo alla domanda principale. Come funziona il frigorifero? Così capite anche perché il fatto che qualcuno sia riuscito a condensarlo in una cosa che entra nella mia macchina e funziona a batterie per giorni è meraviglioso. Intanto il problema principale è che il freddo non lo creiamo. Se avete freddo accendete un fuoco ma se avete caldo non accendete un'acqua che è la cosa che mi viene in mente quando penso all'opposto del fuoco. Quest'anno siccome l'elettricità costa un botto c'erano i climatizzatori e raffrescatori. I raffrescatori cercano di utilizzare il principio che l'acqua in qualche non funziona. Cioè siamo seri quando c'erano 40 gradi e boccheggiavamo l'estate scorsa solo i climatizzatori che sono un po' come il frigorifero creano il freddo ma non puoi creare il freddo quindi in realtà devi trovare un modo di creare il freddo tramite il caldo. Avete presente quando da piccoli perché non lo fate più da adulti? Prendevate un deodorante spray e lo spruzzavate attaccato qua e vedevate questa sorta di freddo che faceva pensare a MacGyver quando usava l'azoto liquido per spaccare lucchetti? Ecco il gas ha questa caratteristica. Quando passa dallo stato liquido allo stato gassoso fa più freddo. Non andiamo adesso a dire funziona. Il frigorifero funziona su un concetto simile. Abbiamo un compressore che sputa un liquido magico in forma gassosa su una serpentina che prenderà il calore e lo rilascerà nell'ambiente. Che è il motivo per cui non potete usare il frigorifero come condizionatore è il motivo per cui i condizionatori sono fuori dalla finestra perché se voi aprite un frigo con l'idea di fare freddo dentro la stanza state combattendo contro il frigo stesso e perdete. Quindi serpentina calore che se ne va si passa a un vaso di espansione dove questo liquido che era ad alta pressione viene rimesso a bassa pressione esattamente come quando premette sullo spray e in questa fase passa in una serpentina interna dove rilascia il freddo prima di tornare di nuovo al compressore. Venire a compresso passerà serpentina per il caldo vaso di espansione serpentina per il freddo compressore. Per i più pedanti di voi non è vero che la serpentina rilascia freddo perché come prima non c'è l'opposto del fuoco quindi in realtà semplicemente prende caldo da dentro però diciamocelo siccome non è un canale di fisica chi se ne frega rilascia il freddo. Fare il gas del frigorifero è un lavoro noiosissimo fate sempre la stessa cosa tutto il giorno perché il frigorifero non lo spegnete mai. Se avete saltato la parte teorica a parte darmi un dispiacere personale fermiamoci al fatto liquido magico e cose fanno il frigo un luogo più freddo dell'ambiente e fanno anche il frigo una sorta di macchina del tempo. Avete presente il paradosso dei gemelli di Einstein? Quello che diceva prendete due gemelli identici uno lo mandate nello spazio a velocità vicina quella è la luce e l'altro lo tenete sulla terra. Poi non so come lo fate tornare e sarà invecchiato molto meno. Allo stesso modo dei gemelli prendiamo due pomodori uno lo mettiamo sul tavolo e uno dentro il frigo e guarda un po' quello dentro il frigo invecchia più lentamente. Funzionerebbe anche se mettessimo uno dei gemelli dentro il frigo però sapete è buio. Cioè dovremmo trovare un modo per fare un frigo con la luce sempre che questa roba mi ricorda siccome in Sardegna se tu colpisci con la macchina un cinghiale la regione ti rimborsa a fatto che tu porti il cinghiale come prova un po' di tempo fa un tizio aveva chiamato e erano andati là e c'era il cinghiale solo che non so perché avevano controllato e il cinghiale era congelato dentro perché se il frigo è una macchina del tempo il freezer a pozzetto è una macchina del tempo ancora più potente e infatti non l'ho mai comprata perché consumano stonfo come tutte le macchine del tempo. Ora il frigo si può usare tendenzialmente in tre modi in un senso potete usarlo come frigorifero come frigorifero e freezer o solo freezer anche se ho visto se lo tenete a meno 20 gradi la batteria dura quello che dura e sono riuscito a tenere i gelati utilizzando il pezzettino freezer per 9 ore se invece l'utilizzate come frigorifero va fino a 42 ore nei test loro non ho avuto 42 ore per rifarlo ma ci credo nel senso se fuori ci sono 25 gradi vi tiene una temperatura di 2 gradi per 42 ore più fa caldo peggio ma siccome eco flow fa anche pannelli solari potete sempre attaccare il pannello solare è andate all'infinito che questo frigo ha un attacco che si chiama xt60 veramente il più comune delle attacchi ha le ruote le ruote sono un optional non so se le comprerei nel senso sono carine sono facili da smontare perché c'erano due viti particolari però non sono non so se siete con un amico questa maniglia sono talmente belle larghe comode bilanciate eccetera e le ruote non ci vedo tutta questa utilità poi ovviamente esistono i frigoriferi per gli esseri umani avete mai sentito parlare di criogenica camera criogenica ci sono quelle per quando muori nella speranza che un domani riescano a resuscitare i morti e che la tua famiglia sia ancora abbastanza ricca e potente da che a qualcuno interessi risuscitare te nello specifico oppure esistono quelli per i vivi che è una roba assurda l'ho fatta in russia il che significa che già sta entrando in un frigo immaginate che uno apre una porta di metallo ai tempi portava ancora gli occhiali quindi di colpo non vedi più niente siccome sotto zero l'ambiente è secchissimo come ne aprono vieni invaso da una nube di fumo entri in una stanza ti chiudono e tu sai che se anche chiedessi aiuto loro non parlano la tua lingua e quindi sono stati tre minuti divertentissimi ma con questa sorta di ansia che secondo me ha aggiunto quel quid all'esperienza e tra l'altro in russia costava 15 euro e a londra ne costava 130 è il motivo per cui l'ho fatto in russia ma come è possibile che l'america il posto dove tutti quanti devono sempre inventare cose depositare brevetti abbia creato un solo modo di far funzionare un frigorifero in realtà non è proprio così è che chi ha inventato quel tipo di tecnologia sono le stesse persone che hanno inventato cose come la benzina al piombo e guardatevi questo video perché veramente l'invenzione al piombo è una di quelle cose che dovete capire soprattutto per capire la caratura di queste persone che poi erano General Electric e General Motors guarda un po' elettricità e motori e magari se tu produci elettricità e motori non hai interesse che esista un frigorifero che non usa né uno nell'altro perché l'alternativa è utilizzare il gas e lo so che pensate che la lobby dei petrolieri sia uno dei poteri forti però la lobby dei petrolieri si concentra sulle macchine invece la lobby dell'elettricità ha un enorme interesse nell'andare da sono la cosa che accende le lampadine a sono la cosa che accende le lampadine e questo oggetto indispensabile che consuma 100 volte quanto una lampadina e magari non neanche così tanto interesse che consumi meno che potrebbe essere il motivo per cui i frigoriferi sono rimasti praticamente invariati fino agli anni 70 ora c'è da dire che è vero che esistevano i frigoriferi a gas che funzionavano con pochissimo gas però utilizzavano l'ammoniaca e quindi ogni tanto se ne rompeva uno e la gente moriva all'interno della casa e quindi il problema dei frigoriferi a un certo punto attira anche Einstein che insieme a un suo amico Sillard decidono di creare un frigorifero migliore ovviamente direte ma chi è Sillard chi l'ha mai sentito ha inventato la reazione nucleare a catena e l'ha brevettata quindi capiamoci e poi sono quelli che hanno scritto a Roosevelt per avviare il progetto Manhattan insomma non sono due sconosciuti sono due che potevano fare il frigorifero del futuro comunque Einstein era rimasto scioccato in un articolo di giornale dove un frigo si era rotto ammazzando tutta la famiglia forse dormivano in cucina non lo so però capisco che da inventore vuoi risolvere il problema e quindi cercano di creare un circuito completamente sigillato che funziona con un sistema magnetico che muove una massa di metallo liquida magia magia che faceva il rumore di persone trucidate orrendamente o di scimmie urlanti a seconda del testimone a cui chiedevi per cui magari non proprio adattissimo per l'utilizzo domestico comunque i tempi cambiano la situazione in socio economica e la situazione in politica e insomma Einstein va a finire negli Stati Uniti e Lisa deve scappare di nota dell'Ungheria per arrivare a Londra perché il nazismo fa venire voglia di viaggiare a un sacco di persone e quindi Lisa si trova a Londra senza soldi parla con Einstein e decide di utilizzare il fondo che doveva essere dedicato alla creazione del frigorifero per campare e comunque i soldi non bastano perché se durante una guerra la vita è una merda quando sei un immigrato e quindi devono anche vendere uno dei principali brevetti all'Electrolux che se lo mette in un cassetto e ovviamente potevano creare qualcos'altro ma ricordatevi General Motors e General Electric e quindi anche se sei Einstein anche se sei a contatto con Roosevelt per decidere dove lanciare una bomba nucleare comunque non puoi combattere i poteri forti sul campo dell'elettrico giusto per essere chiari i poteri forti saranno pure forti ma sono tanti non è che basta essere un potere forte e poi tutto ovviamente il frigorifero di Einstein Lizard verrà usato nei reattori nucleari perché funzionava e non era così pericoloso poi hanno anche risolto il problema del rumore sono passati dalle scimmie urlanti a un ruggito che comunque secondo molti era troppo rumoroso e a dire la verità esistono anche frigoriferi alternativi che non fanno nessun rumore ma secondo il marketing dei frigoriferi non funziona perché un po' di rumore ci piace diciamo se noi attacchiamo qualcosa e non fa nessun rumore ci viene il dubbio che stia funzionando tutto fa rumore tutto fa rumore il computer fa il suono quando si accende la lampada che sto utilizzando ogni tanto manda una ventola che mi fa smadonnare sul microfono il frigorifero ogni tanto fa quel tic che è il motivo per cui ogni volta che registro devo staccarlo e poi mi dimentico di attaccarlo e bevo l'acqua calda adesso userò la scusa per usare la camera termica e vi farò vedere come funziona ma la cosa bella io non so se si apprezzano in camera ma questi secondi sono perfetti perfetti e tra l'altro li può fare sia grandi che piccoli e si possono configurare nell'app solo che adesso mi chiedo se ci saranno il bicchiere poi qua c'è ancora acqua volendo per svuotarla c'è una poppetina qui sotto che poi userò per un bicchiere di acqua fresca ma ancora voglio limonata nel frattempo il frigo è a 8 gradi quello che io vi consiglio è se lo volete portare siccome l'inizio chiaramente lui deve trasformare una quantità di calore enorme per cui consuma molta più batteria nella prima fase rispetto al resto ora ha consumato il 22 per cento tra ghiaccio e portare questo qua da 20 gradi a 8 quindi qual è il mio consiglio mettetelo già freddo però la cosa migliore è attaccato la corrente raffreddato perché poi in mantenimento consuma infinitamente meno e c'è anche la possibilità di metterlo in modalità economica o in modalità normale in base a quanto vi interessa che tenga esattamente quei gradi che ne so avete perso una mano e la volete riattaccare vi interessa stare esattamente tra i 2 e i 5 gradi la batteria è meno influente tanto state andando di corsa in ospedale lo mettete in modalità normale insomma ci piace che le cose facciano rumore specialmente quando sono al centro della nostra casa vi siete mai chiesti perché ogni volta che mettete un ciocco di legno nel cammino fa quello scoppiettio perché il marketing ha deciso che conviene così certo che potrebbero fare alberi silenziosi e invece insomma un po in marketing un po a senso e quindi insomma il frigorifero è stata una super invenzione è il motivo per cui ce l'abbiamo tutti e dal punto di vista alimentare è stata la più grande invenzione dai tempi del fuoco e sinceramente mi chiedo quale sarà la prossima perché abbiamo il freddo e il caldo che altro vogliamo ora io non lo so se sia fatto apposta però è chiaramente leggermente ruvido è solidissimo sono sicuro che nelle istruzioni c'è scritto che non è una buona idea sederci si sopra ma io vi assicuro che secondo me è pensato per sederci si sopra e questo ruvidino mi fa pensare perfino che sia pensato per metterci un cuscino favoloso favoloso grazie a tutti